Sono il paladino dei saggi e con la mia lancia e col mio scudo mi schiero in difesa della saggistica. Questo è un canale che nasce con l'intento di consigliare libri. Libri prevalentemente o direi quasi totalmente di saggistica. Ma saggistica di che tipo? Più o meno di ogni tipo, dai saggi scientifici, filosofici, psicologici o di carattere sociale, storico, politico o perché no spirituale e religioso. Per capire un po' l'impronta del canale devo però dire qualcosa di me. Non sono un grande lettore nel senso che non divoro libri su libri su libri. Preferisco analizzarli con calma, quasi più studiarli che leggerli. Non mi piace quel senso d'ansia di quel lettore che vuole sempre passare al prossimo libro e che nel mentre si perde per strada ciò che sta leggendo. Una lettura di consumo non fa per me e tende ad annoiarmi. Questo è anche uno dei motivi del perché prediligo più la saggistica alla narrativa, anche se c'è da dire che vabbè la narrativa quando è fatta bene 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 non ha rivali né paragoni che reggano. Nella rete vedo un potenziale per esprimere la propria creatività e un potenziale di condivisione reciproca, in questo caso un potenziale di conoscenza generale, parlando per l'appunto di libri di saggistica. Andando in conclusione, questo non è uno degli ennesimi canali che parlano di libri su libri su libri. Voglio portare invece un libro alla volta, un libro per video, per poter essere più specifico, per poter essere di vero aiuto al potenziale lettore. Il canale non vuole essere una vetrina che ti mostra pile di libri o qualche copertina per poi andare ad elencare qualche opinione messa in croce alla meno peggio in pochi secondi. Assolutamente no. Non è così che posso essere veramente d'aiuto al lettore. Il mio intento è far capire se il libro in questione può essere acquistato o meno e questo lo si può soddisfare soltanto portando un consiglio approfondito, in alcuni casi direi quasi tendente alla recensione. Così quindi come io stesso leggo e mi approccio ai libri uno per volta, così voglio fare i video, dedicando un video a un libro per volta. Quindi, ricapitolando, dedico questo canale a tutte le persone onnivore di libri che cercano consigli e nuove letture, prevalentemente nel campo della saggistica e che non si fanno spaventare da argomenti diversi dai soliti.